io non devo andare all'erua marlen perché mi viene voglia di prendere tutto cominciare a fare è chiuso non l'erua marlen perché mi viene voglia di prendere cose cominciare a fare lavori che poi so che non ho tempo per fare e quindi meglio di no comunque ci sono andata per un motivo valido dovevo prendere la pasta lavamani e adesso siccome mi sono accorta che non ho una magliettina carina per mia figlia per stasera alla festa festa alla pizzata per il compleanno della nonna siccome sai poi si fanno le fotografie gliene prendo una carina qui all'ovs spero che ci siano quelle che costano due e vabbè andiamo a vedere dai intanto le mie nuove scarpette bianche sono inaugurate dalla pioggia se non è sfiga trovati noi siamo giovani wannabe alla fine ho preso questo a 6 euro 7 praticamente e questa magliettina molto molto carina per 3 euro e 97 da 7 euro qualcosa mi piacciono almeno un po più elegante mi secca solo che ovviamente non potrò lavarglieli prima di farglieli indossare però al limite poi la cambio subito mi fa fastidio proprio a me che indossi le cose senza prima averle lavate altrimenti il suo outfit sarebbe questo amore amore la nonna ubriacona però oggi è concesso non ha sentito nonna ubriacona eh sì oggi ti è concesso oggi te non avrei numeri no il fratello brutto antipatico la patti che la fidanzata di zio mi chiede e la bella il mio bambino e la mia bambina che mangia la pizza togliendo la mozzarella ingegno beffa eh tanti a te tanti a te tanti auguri alla mobis tanti auguri a te grazie 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 leggiamo cosa c'è scritto hai sentito hai sentito hai sentito ah oh oh vi ho adesso piange grazie a tutti eh ma hai visto il tempo ma hai visto che non hai visto ma hai visto che non hai visto che eriva ce n'è più per noi come che alla mimosa no sì per me è l'unica il regalo è stata la fotografia di suo fratello gli piaceva tanto questo mio fratello adesso fa come baglioni che si leva dai ieri sera poi vi ho risparmiati mio zio che inveiva contro una pizzeria perché ci hanno portato le pizze 45 minuti in ritardo ed erano fredde ve l'ho risparmiato e anche mia nonna che piangeva per il regalo la fotografia che le abbiamo fatte può sembrare una caccavolata però per una donna che vive di ricordi è stato veramente tanto forte come come emozione con il naso tappato quindi ve l'ho risparmiata e poi siamo tornati a casa raga una pioggia ma una pioggia e una nebbia mamma mia stanotte qui ci sono stati i temporali sembrava di stare allo stadio botti luci mamma mia difatti mia figlia poi è venuta nel lettone con noi amore va bene questo è stato compleanno della nonna e spero che vi sia piaciuto il video io adesso vado al lavoro me tocca però ci vado volentieri ciao raga al prossimo video ciao